Inauguriamo oggi questa mostra all'aperto in via Girardelli in piazza 4 novembre una sorta di chiusura dell'anno del centenario di Felice Musazzi non una chiusura delle iniziative perché tutto quello che era stato immaginato e che poi complice anche la situazione non è stato realizzato pieno verrà comunque portato avanti a partire dal premio teatrale che tendiamo a organizzare per la prima di quest'anno e quindi continuiamo a celebrare la figura di Felice Musazzi in più inauguriamo un po' questo spazio all'aperto che potrà essere utilizzato anche per altre iniziative nel corso del tempo Ecco, quante sono le immagini e cosa raccontano? Le immagini raccontano sempre le espressioni di Teresa, le espressioni di Madiglia un po' anche di tutti i legnanesi di allora che appunto vengono raffigurati in una stampa e comunque sempre la storia che continua Grazie mille!